Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo Amici di Radio Bruno, siamo sempre qui a Sanremo in compagnia della splendida Eva, benvenuta Grazie mille, ciao a tutti Allora, come stai prima di tutto? Eh, devo dire che sono parecchio emozionata, stanotte non ho dormito Insomma dai Io posso provare solo a immaginare La vostra tensione, però ecco, che emozioni si respirano anche tra di voi, tra voi giovani? Guarda, in questi giorni ci siamo visti poco perché comunque ognuno ha da fare un po' le sue cose Quindi ci siamo incrociati proprio tre secondi Per quanto mi riguarda appunto me la sto vivendo bene, nel senso sono felicissima Però il giorno si avvicina quindi inizio un po' a sentire la strizza La strizza Ma è giusto anche che sia così Poi tra l'altro hai avuto già delle esperienze incredibili anche su un palco prestigioso come quello di X Factor Quindi insomma, diciamo un po' di esperienza ormai l'hai fatta No, diciamo che infatti tutti mi dicono ma Eva ormai dovresti essere abituata dopo X Factor due mesi in realtà no Non ci si abitua mai No, esatto Poi il palco dell'Arison sicuramente ha un peso un po' diverso diciamo Brava Senti, tra l'altro sei scaramantica, hai tanti portafortuna Molto Ti porti in gara Cosa ti salverà? Ecco che brano è? Perché è un invito insomma a che cosa? A prendersi cura di noi stessi A prendersi cura di noi stessi Infatti è proprio la prima frase diciamo del testo Tu prenditi cura di te Quindi è un testo che parla d'amore però l'amore per se stessi E quindi è un po' rivolto a tutti ma anche a me stessa Perché alla fine del brano dico Cosa ti salverà? Cosa ci salverà? Cosa mi salverà? E quindi cosa ti salverà è un po' una frase ironica per dire che alla fine Non c'è niente che ci può salvare se non partiamo da noi stessi E se non prendiamo coscienza di chi siamo davvero e di cosa vogliamo insomma Prenderò appunti Credo che sia importante per tutti questo Prendersi cura di noi stessi e a volte tralasciare magari i problemi Quello che ci circonda E volersi un po' più di bene Giusto? Giusto Sono curiosa perché hai tanti tatuaggi Giustamente sei una tatuatrice Voglio sapere se ti farai un tatuaggio dopo Sanremo Sicuramente sì Non so ancora cosa perché ovviamente penso di arrivare Cioè arriverò a fine esperienza E poi in base alle cose vissute Tirerò fuori qualche soggetto adatto Quindi ne vedremo uno in più Invece così hai pensato a un'eventuale serata finale? Guarda intanto sto pensando alla prima Vediamo Step by step Esatto Però insomma un po' ci pensi? Beh certo sicuramente Potrebbe succedere Guarda non so cosa aspettarmi perché ovviamente è la prima volta per me qui a Sanremo Quindi sono tanto emozionata tanto Non vedo l'ora di salire sul palco però è tirar fuori tutto insomma Tirar fuori la tua grinta Esatto E poi tra l'altro insomma voi in questi giorni siete in giro tra interviste, prove, su prove Ecco i conduttori Cioè quando voi provate vi vengono a dire qualcosa? Vi danno qualche consiglio? Anche il direttore artistico Claudio Baglioni insomma che segue in prima persona tutte le prove Ma in realtà fino adesso devo dire la verità no Nel senso ho incrociato Claudio l'altro giorno per le prove E a fine esibizione mi ha detto brava Quindi sono stata accontentissima Sì sì E Michelle l'ho intravista un attimo anche lei è venuta a farmi i complimenti Però diciamo non ci siamo parlati più di tanto ecco perché ci siamo visti poco Allora Eva noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo Ti chiedo ovviamente di fare un saluto ai nostri amici di Radio Bruno Che ti seguiranno sicuramente Viva il lupo grazie mille Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno Un bacione Ciao Grazie Eva No grazie Radio Bruno in diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Guesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renaud Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli E E B per Banca